Sabato 9 giugno, negli impianti sportivi dell'Istituto Giordani Striano in Via Caravaggio, si svolgerà il secondo campionato italiano maschile e femminile di Sitting Volley, uno sport derivato dalla pallavolo ed adattato per la pratica sportiva delle persone diversamente abili, che si propone anzitutto di favorire l'integrazione sociale, poiché può essere praticato senza distinzione da numerose categorie di diverse abilità e allo stesso tempo da soggetti normodotati. L'evento è stato promosso dalla Polisportiva Liberamente, ha il patrocino del Comune di Napoli e della Decima Municipalità, oltre che della città metropolitana, della Regione Campania, del Comitato Italiano Paraolimpico e dell'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi sul Lavoro. Noi dobbiamo ringraziare chi ha avuto l'idea di organizzare e di portare questo campionato italiano di Sitting Volley a Napoli, quindi Napoli diventa la capitale del Sitting in Italia. È un bel evento, è un evento che ci fa riflettere perché probabilmente ci vogliono delle politiche che siano più dedicate allo sport, non è più possibile che siamo in un'azione che arretra sempre di più e arretra anche nello sport, che dovrebbe essere un diritto. Altre nazioni, altri modelli della stessa comunità europea sullo sport investono tantissimo, in Italia si investe zero e i comuni che poi sono i proprietari degli impianti ne soffrono tantissimo e se non ci sono eventi straordinari come le universiadi che cercano di mettere a posto un po' gli impianti, si lascia con il degrado più assoluto, insomma quello che potrebbe essere assolutamente una risorsa per le città, per i territori e soprattutto per la gente.